Hanno preso il via con la posa della prima pietra i lavori per la realizzazione di quella che diverrà la scuola dell'infanzia all'interno del nuovo polo scolastico fioranese nella frazione di Spezzano, progetto che vedrà poco distante, sempre nell'area di via Ghiarella, anche la costruzione di una nuova scuola primaria e della palestra in via Don Minzoni. Il cantiere è già iniziato lo scorso anno con le opere di urbanizzazione che hanno visto la realizzazione del parcheggio del percorso pedonale e ciclabile e continuano con la realizzazione della nuova scuola materna. Il cantiere dovrebbe durare circa un anno, quindi essere pronto per l'anno scolastico 2025-2026. È un cantiere da circa 5 milioni di euro, interamente coperto con fondi del comune e la scuola andrà a sostituire l'attuale Villa Rossi. Ci tengo a dirlo, quest'opera è già completamente finanziata, completamente pagata e quindi non rimarrà nulla a debito per anche le future generazioni. L'anno prossimo dovrebbe essere inaugurata la scuola materna e a 200 metri da qui è in progettazione la nuova scuola primaria con nuova palestra e quindi si compirà il famoso cosiddetto polo scolastico di Spezzano che sarà un arricchimento per la comunità, in questo caso spezzanese, importante e che durerà per decenni ovviamente. La nuova scuola sarà realizzata nel rispetto delle norme antisismiche ed energetiche con emissioni e costi quasi azzerati. La struttura sarà all'avanguardia anche rispetto alle più recenti innovazioni didattiche, con spazi aperti e giardini interni. Sarà un edificio immerso nel verde, come vedete, e avrà anche ampi spazi aperti verso l'esterno, proprio perché il messaggio che vorrà veicolare anche una scuola di questo tipo è che il concetto di comunità educante, che adesso è tanto in voga nel mondo dell'educazione e della scuola, effettivamente deve avere le giuste declinazioni e le giuste strutture per trovare la migliore applicazione possibile e in questo modo avrà davanti una bella piazza, avrà un bello spazio interno, avrà un grande giardino esterno, ogni classe avrà un proprio giardino e in questo modo farà davvero questa nuova struttura da tre d'union tra la scuola e la comunità fioranese.